Correre a ripari e sollecitare l'operato dell'amministrazione. Marco Lorenzetti, dell'Udc, lancia il grido d'allarme sulla delicata situazione che sta mettendo in agitazione la marineria sanbedeltese e non solo. Lorenzetti, ex assessore alle politiche del mare nel precedente governo, conosce bene la realtà portuale della città e propone alcune soluzioni con la finalità di tamponare la crisi. Innanzitutto chiedo la convocazione del Consiglio Comunale in seduta permanente, dice il capogruppo Udc. L'iniziativa in questione è prevista in condizioni particolari ed emergenza e presume una situazione continua di seduta consigliare. L'invito al Consiglio deve, secondo Lorenzetti, essere esteso anche alle istituzioni principali, in primis quelle regionali, comprese i parlamentari eletti nel governo centrale. Le competenze relative alla pesca, ha detto Lorenzetti, spettano in maggior parte proprio alla regione, prima che a provincia e comune. Un'altra proposta è ridurre le tasse sullo scalo d'alaggio e abbassare i diritti d'asta del mercato ittico. Per ogni cassetta di pesce, infatti, i commercianti pagano il 4% di tasse sul totale battuto all'asta. Occorre impegnarsi perché questa cifra si riduca, è l'idea di Lorenzetti. Infine, un suggerimento sul fermo biologico. Chiederò all'amministrazione l'impegno a spalmare il blocco della pesca in vari mesi, non solo ad agosto, quindi. Nel 2005, ricorda il capogruppo Udc, una delibera dell'amministrazione Martinelli permise alla marineria sanbenedettese di lavorare anche nel pieno della stagione turistica. In quell'anno, infatti, si decise di suddividere il fermo biologico per zone geografiche, così da creare vantaggi all'intero indotto turistico locale.